ciao fragoline nuovo video come leggete dal titolo un video diverso praticamente una recensione vi faccio vedere il prima e dopo e proviamo insieme il vapore ariete che ho comprato su amazon praticamente adesso vi faccio vedere la scatola e vi faccio vedere anche il prodotto vi spiego come funziona e vi faccio vedere se funziona e in più vi faccio vedere anche il prima il dopo di come stira la maglietta per cui è da un po di mesi che ce l'ho e dato che mi sono ricordato adesso di farvi questa recensione l'ho pagato pochissimo adesso non mi ricordo se sui 20 euro massimo 30 non di più lo trovate su amazon però prima di ripetere sempre le stesse cose vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina lasciarmi un like e seguitemi su instagram quando avete fatto queste cose iniziamo allora vi faccio vedere la scatola questa è la scatola allora il ferro a vapore praticamente è di 1200 watt poi vediamo se ci sono anche praticamente perché c'è dentro il kit e non mi ricordo se lo ok perché ha la garanzia però vabbè si apre così dovrebbe esserci il kit dentro sì vi faccio vedere allora ci sono i kit c'è questa spazzolina che io sinceramente non ho mai utilizzata questa e questa qua io queste non le ho mai utilizzate poi ci sono le istruzioni che sono questi questa credo che è la garanzia questi sì garanzia ma non ho mai non ho mai avuto problemi perché da un bel po di mesi che le utilizzo e basta questi sono quelli praticamente le istruzioni e che ti spiega come utilizzarlo in poche parole però io lo so già perché l'ho utilizzato e so già come si usa allora questo il ferro la presa è fatta così allora è piccolo perché diciamo che questo praticamente stira in in verticale però anche originale anche normale perché sinceramente però io di più uso in verticale allora diciamo che qua dentro si apre così c'è due due bottoncini che si aprono dove tu metti l'acqua che adesso la mettiamo perché sinceramente è poca e dovete metterla dove c'è scritto max qua per cui è poca la mettiamo insieme questo è dove si mette l'acqua ovviamente per mettere l'acqua adesso vi faccio vedere c'è questo coso bianco dove voi c'è questo dovete aprirlo praticamente così dovete tirarlo e aprirlo e qua c'è il buco dove mettete l'acqua io ve lo dico perché sinceramente poi le persone non sanno come si apre ma non è che ci vuole tanto perché c'è questa linguetta dove voi prendete e la tirate e quando avete riempito l'acqua lo mettete dentro questo è il pulsante dove potete praticamente tenere premuto così va il vapore oppure c'è il blocco che adesso non so se si vede ma se voi lo tirate in giù si blocca resta praticamente fisso e va da solo senza che tu lo devi lo devi tenere premuto e poi normale qui invece dove si accende adesso vi faccio vedere prima metto l'acqua perché non basta vi faccio vedere come si accende che diventa rosso segna quando ovviamente non la lampeggia più vuol dire che è pronto che è bello scala parte che ci vuole due secondi che si riscalda e vi faccio vedere la la maglietta prima e dopo così almeno vedete come funziona perché molte persone non sanno come funziona e ho letto poi un ragazzo ha fatto un video che l'ha comprato ma sinceramente non ha ancora capito come come funziona e allora ho detto vabbè faccio il video così forse è più utile per cui andiamo a mettere l'acqua e ovviamente andiamo a vedere come funziona allora lo apriamo come vi ho detto prendete il coso lo tirate e ci mettiamo l'acqua ovviamente la metto chieda chieda o fredda è uguale dopo aver messo l'acqua che così va bene lo chiudete normale schiacciate così è facile non ci vuole tanto per capire allora vi faccio vedere la maglietta questo è praticamente il prima come vedete la maglietta è stropicciata non so se si vede bene però dato che non so come farvela vedere in poche parole dovete mettere adesso vi faccio vedere credo che così si vede che la maglietta è stropicciata per cui dovete metterla appesa sul da qualche parte io la pendo sul telo del proiettore comunque prendiamo il ferro ci mettiamo mettiamo il serbatoio d'acqua poi lo accendiamo allora quando lampeggia così con questo segno vuol dire che si deve riscaldare quando stoppa che non lampeggia più vuol dire che è pronto per cui ci vogliono pochissimi secondi io adesso vi faccio vedere quando ho finito di riscaldarsi vi faccio vedere il risultato di come li stira calcolate che potete farlo sia normale così quando appendete ad esempio la maglietta o pantalone va bene per tutto magliette pantaloni camicie anzi le camicie secondo me le fa ancora meglio delle magliette eccetera ecco adesso non lampeggia più infatti ci vuole pochissimo tempo per riscaldarsi schiacciate il bottone ed esce il vapore all'inizio esce un po d'acqua però poca adesso non lo vedete il vapore non fa neanche rumore con una sola passata basta solo schiacciare io di solito blocco faccio così lo blocco e vado solo così non devo starli a tutte le volte a tenere premuto e ci passate la maglietta ovviamente non dovete stare tanto vicino perché sennò vi esce un po d'acqua se è stato un po lontano e lo passate per così calcolate che vi stira la maglietta in poco tempo adesso non so se si vede però se vi avvicinate ovviamente vi bagna la maglietta un po però è facile da usare per me la posizione un po scomoda perché non so come farvelo vedere però il risultato vi assicuro che in poco tempo vi vi stira le magliette vi stira tutto adesso per me è difficile e scomodissimo così però vediamo la manica non so se lo vedete c'è la manica la stirata adesso si vede poco ma cambio posizione perché non riesco comunque voi date solo una passata adesso io si scomoda non riesco a farlo sull'armadio ma di solito io lo faccio praticamente sul dall'altra parte dove c'è il legno la attacco la maglietta e stiro bene adesso vi farò vedere il dopo fatemela stirare così vi faccio vedere il dopo ok ho trovato un'altra posizione che forse sono più comoda perché era praticamente troppo in basso per cui se vedete adesso questo è praticamente il risultato della maglietta per cui io volevo mettervi più da lontano così almeno si vede ma non riesco a far vedere più di così però si vede che il risultato è cambiato adesso vi faccio vedere la passata così vedete che è stirata potete anche stare vicino è perché tanto non dopo che la prima volta esce un po d'acqua però poi se riesce anche benissimo puoi stare vicino credo che il risultato si vede comunque per farvi capire è un ottimo ferro a vapore perché qua esce il vapore a non so se lo vedete potete anche stare distante e vi stira la maglietta adesso aveva la maglietta e macchiata perché vabbè questa la usano per il lavoro comunque tra il primo e dopo si vede a prescindere che questa una maglietta gialla per cui forse si nota di meno ma vi assicuro che il risultato è ottimo con una semplice passata praticamente fatte più di cinque magliette ovviamente vabbè io ho fatto fuori tutta l'acqua perché dovevo trovare una posizione giusta ma dato che è difficile farvi vedere la posizione giusta a registrare con la maglietta però vi assicuro che il risultato della maglietta è praticamente stirata perché si vede dal risultato che è veramente stirata a confronto di prima questo ovviamente è il dietro vi faccio vedere vi faccio vedere davanti che vabbè così non si capisce perché appunto però è praticamente stirata come si deve adesso con una mano è difficile farvela vedere però è perfetta vi metto le foto del prima del dopo così vi faccio vedere il risultato comunque vi metto il prima e il dopo comunque i risultati si vedono ovviamente la maglietta è gialla per cui si vede secondo me su sul video si vede male però vi assicuro che con una semplice passata specialmente le camicie provate le camicie mi ama solo per usare questo ferro ci mette pochissimo fa più di cinque magliette anche di più perché fa sia io l'altra volta ho fatto cinque magliette e pantaloni e poi una camicia mi sembra comunque vi sicuro che specialmente le camicie le fa da dio se mai in un blog vi farò vedere oppure quando riesco vi metterò lo stesso la foto del prima del dopo di un'altra maglietta di un altro colore così avete vedete meglio la differenza perché vale la pena costa poco non so se sui 25 euro 30 euro ma non è neanche tanto una la marca è a riete ed è ottima io ve la straconsiglio credo spero che nel risultato c'è dalla telecamera si vede il risultato di quello che fa ma tanto vi metterò le foto e niente per altri dettagli consigli eccetera scrivetemi sotto nei commenti che io poi vi rispondo o nel prossimo video oppure vi dirò sotto nei commenti le domande che mi volete fare voi per cui stira tutto tutto perché ho provato di tutto e stira tutto ovviamente però spegnerlo basta schiacciare una volta e si spegne per cui spero che questo video vi sia stato utile spero che vi è piaciuto fatemi sapere se voi anche l'avete acquistato è comodissimo da utilizzare e vi assicuro appena vabbè io non ho diciamo un tipo un appendino dove appendi tipo le magliette e stiri però io di solito lo faccio qua sopra che io ho la massarda sopra e qua c'è un legno dove ho messo un chiodo appendo le magliette e li stiro e riesco a stirare bene solo che adesso di là talmente c'è tanta roba a stirare che non riesco a farvelo vedere meglio infatti ho avuto anche un po' di difficoltà a farvi vedere come riesce a stirare perché se lo mettete già sull'armadio è scomodo e poi non riesce a stirarvi bene le cose dovete metterlo in una posizione comoda sia per voi che anche per uscire a stirare diciamo molto meglio a confronto di quello che vi ho fatto vedere io per cui io sono stata un po' in difficoltà a farvelo vedere perché già dovevo farvelo vedere da lontano e non sono riuscita a farvelo vedere o tantomeno fare delle riprese giuste comunque io vi metto le foto e lo vedete tramite foto che è una bomba poi vi farò vedere in un vlog la differenza secondo me si vede meglio va bene detto questo spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video fatemi sapere se volete altre recensioni di prodotti elettronici detto questo io vi saluto ciao